Col rientro di Brugman potrebbe, secondo te, cambiare qualcosa nell'assetto? L'assetto poi lo trovi, non è un problema, perché i giocatori di qualità fanno solo bene alle squadre di calcio. Io la penso come Allegri, Allegri ho letto che dice che ci vuole una grande regolarità in difesa, quindi un'organizzazione difensiva e poi ci vuole la tecnica, ci vuole gli giocatori che ti fanno vincere le partite, perché io non sono stato uno di quelli, quindi per quello te lo dico, perché ci vogliono poi i giocatori di qualità. Gli altri devono essere bravi a fare, come l'ho fatto anche io, il gregario e via dicendo, puoi essere un gregario più o meno di qualità, ma ci vogliono poi i giocatori determinanti per vincere le partite. Il calcio è fatto di due fasi, non è una scienza, fase di non possesso e fase di costruzione e impostazione. Tu sei molto umile, perché dicevi sì, facevo il gregario, ma a quei tempi tu avresti fatto la differenza nel calcio moderno, con le tue qualità tecniche, prima era diverso. Sì, ma quello non cambia. Io ho fatto una scelta allora, io avevo fatto cinque gol quando sono arrivato a pescare i primi, ma poi vedendo uno come Bruno Nobili, che onestamente aveva delle qualità offensive nettamente superiori alla media, specialmente nettamente superiore alla serie B, quindi ero giocatore tecnicamente per qualità da serie A, è normale che se lo fai correre troppo poi non vinci le partite. Cioè è un discorso di squadra. Io credo che sia normale che i giocatori che possono e hanno le qualità per fisico, per corso, per volontà, per tutto quello che hanno, per cuore, per palle, posso dirsi, per palle, per cuore, di partecipare di più alla fase di non possesso, e proprio lo devono fare perché devono liberare quelli che hanno più qualità tecnica per determinare il risultato a favore. Se non fai gol non vinci mai, eh? Assolutamente. Il capitano ha dato il meglio di sé, e questo è un mio modesto punto di vista per carità, l'anno di Marino, quando si inventò, tra virgolette, il 3-4-3 con Zuparic al suo fianco che fungeva da frangiflutti. È riproponibile una situazione tattica del genere nel pescare attuale? Ma io credo che ci siano, a prescindere dalla difesa 3, che può essere anche a 4, non cambia molto. Chiaramente lui, avendo delle grandi qualità tecniche e anche di impostazione di gioco, ha bisogno di essere sempre dentro al gioco, quindi quando la palla ce l'ha la tua squadra, Brukova va cercato costantemente perché sa inventare, sa partire da solo, ha una progressione, palla al piede centralmente, io credo che difficilmente ci sia un centrocapista anche in Serie A con queste capacità di puntare la porta. Chiaramente un giocatore vicino a lui, che si preoccupi poi di mantenere le posizioni difensive, può essere un aiuto sia per lui che per la squadra, ma questo logicamente va programmato nel tempo e trovare i giocatori adatti. Io penso che quando hai i giocatori di qualità l'importante è cercargli vicino quelli che possono essere più adatti a far emergere il suo gioco.